Ok, Vivello. Preparati a un po' di ammollo. Ricorda che non ci sono innocenti qui. Né prigionieri, né testimoni. Non c'è anche un po' di ammollo. Sognato solo buoni. Qualcuno prenda secchio e spazzolone. C'è un uovo addetto alle pulizie. Ufficiale sul ponte! Bene, ascoltate. Abbiamo solo 30 minuti prima dell'atterraggio e non mi ripeterò due volte. L'obiettivo è Roland Cain, capo del leggendario Wolfpack. Tre anni fa Cain è sparito nel nulla. Da allora non si hanno sue notizie. Siamo riusciti a rintracciarlo nella colonia del pianeta qui sotto. Ora, quello che stanno facendo laggiù non ci riguarda. La nostra missione è semplice. Trovare Cain e riportarlo sulla Terra. Punto. Ottimo! Ora vi presento Turok. Turok? Turok è qui per aiutarci a trovare Cain. È un ex membro del Wolfpack. Già, prima che li tradissi... Slade, finiscila! È inaffidato. Bene, è tutto. Prepariamoci all'azione. Andiamo laggiù, eh? Durok, seguimi su per la scala. Durok, seguimi su per la scala. Cole mi ha chiesto di mostrarti l'equipaggiamento che useremmo appena giunti sul pianeta. Ma hai usato una di queste? Una volta o due. Prepararsi all'impatto! Ombre. Prepararsi all'impatto! Signore benvenuti. So che pensavate di essere trasferiti in un'altra prigione militare, ma i piani sono cambiati. Ora siete tutti sotto il mio comando. L'esercito vi considera un branco di violenti repressi senza speranza. Io non la penso così. Sotto la mia guida potreste diventare le migliori macchine da guerra mai prodotti. E questo è proprio quello che serve al Wolfpack. E che cosa siamo, i tuoi cani? Tu. Un passo avanti. Sei un attivo americano, vero? Un vero genio. Devi essere cero di Kaio. Ah, credo Kaio. E per tua fortuna ho le mani legate. Su. Presto. Sveglia, dobbiamo andare! Coraggio! Di qua! Il passaggio è bloccato. Di qua! Non abbiamo scelta. Seguimi! Da questa parte dovremmo farcela. Forza! Mi serve aiuto qui! E' andato! Non c'è più niente da fare! Tutto a posto! Di sopra beverò. Dai, controlliamo il resto della nave. Forse qualcuno degli altri è ancora vivo. Da adesso in poi lavoreremo insieme. Stammi dietro e ne usciremo sani e salvi. Oh, merda. Era un dinosauro! ... ... ... No, no. No, no. Là, lo vedi il fumo? Il resto della nave deve essere caduto laggiù, ed è là che andremo. Whiskey Company, mi ricevete? C'è nessuno? Maledizione, niente da fare. Whiskey Company, mi ricevete? Whiskey Company? Cole? Lewis? Logan? C'è nessuno? Ehi, ricevo qualcosa! C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Grazie a tutti. 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 Ehi, sentito? Sembra un comitato di bebe. Grazie a tutti. Cerca di non allontanarti troppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. What the hell is that? Grazie a tutti. Non credo a quello che ho visto. Non pensare che cambi qualcosa. Forse lavoreremo insieme, ma non credere che la cosa mi piaccia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Are you. Robert Slade? Ti dice nulla? È morto in quella missione. Non come te, che hai preso e te ne sei andato. Renditela con Kame. È il colpevole della morte di tuo fratello. Me la prendo con tutti e due. Merda! Siamo in trappola! Prima che ne arrivino altri Prima che Qui possiamo arrampicarci sulle liane. Soffri di vertigini? Li cadi e li arresti, è chiaro. Il pianeta dovrebbe essere nuclearizzato. Soffri di vertigini? Soffri di vertigini? Grazie a tutti. 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 Questo arco è per te. Rappresenta il passaggio a livello di addestramento successivo. È uno scherzo? Non direi proprio. È un peccato che ti vergogni delle tue origini, Turok. Perché la storia insegna che molti dei più temibili guerrieri erano indiani Kai'ua, come i tuoi antenati. E l'arco era la loro arma preferite. Grazie a tutti. 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 setacciate la zona sembrava il rumore di un'altra attacchi Grazie a tutti Mi sono riposato un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Ci servono altre truppe E' ora di morire Grazie a tutti 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 Siamo Grazie a tutti 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 Dividiamoci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti